Alvia la ventiquattresima edizione del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, manifestazione clou dell'autunno teramano organizzata dall'associazione culturale Teramo Nostra. Madrina del premio sarà l'attrice, figlia d'arte Violante Placido che parteciperà alla cerimonia di premiazione in programma sabato 12 ottobre a partire dalle ore 17 al teatro comunale di Teramo. Con lei ci saranno altri ospiti del mondo del cinema come Ninetto Davoli, attore preferito di Pierpaolo Pasolini, ma anche la teramana Elisa Deusagno, notatrice cinematografica e di teatro. Ventiquattresima edizione di questo premio, sempre con grandi difficoltà però ci siete sempre. Sì ci siamo sempre, noi abbiamo l'onere di organizzarlo perché io dico questo è un premio di tutta la città, di tutto l'Abruzzo, quindi grazie al nome di Gianni Di Venanzo siamo riusciti a farci conoscere in tutto il mondo. Quest'anno verrà il presidente dell'Accademia degli Oscar, John Bale, premiato per la sua attività di regista e autore della fotografia, tra i grandi suoi film ricordiamo Silverado, ma tantissimi capolavori. Il russo Vladimir Opelmaiz, l'italiano Gianni Fiori Coltellaccio, che il papà è stato uno dei grandi autori della tv italiana, lui è un grande autore di fotografia, questo film Sirano di Bergeras sarà proiettato per tutte le scuole, dopo i film che non faremo vedere durante il premio nella nostra sede organizzeremo altre serate. Qual è il messaggio che questo premio vuole portare, soprattutto ai più giovani? Intanto un messaggio di luce, di non arrendersi mai perché gli autori della fotografia si catturano, utilizzano la luce e quindi illuminano tutto quello e dopo un messaggio culturale perché senza cultura non si vive, diciamo la verità, la cultura è quella che ti fa stare bene.